Vi presentiamo Matteo e Lisa. Gestiscono un allevamento di bovini da latte ed amano il loro lavoro. Ogni giorno devono prendere decisioni importanti e vorrebbero che fossero sempre le migliori, gestendo al meglio la fertilità degli animali, monitorando la salute e ottimizzando la produzione. Ma le informazioni fondamentali non sempre sono disponibili, oppure a volte sono semplicemente troppe. Matteo e Lisa spesso non sono soddisfatti e sanno che potrebbero fare di meglio per la loro azienda, ma non hanno a disposizione le informazioni necessarie. Quando cercano di utilizzare il software per la gestione della mandria, sono sopraffatti da infinite quantità di rapporti. Ciò che servirebbe davvero è una sola dashboard con tutte le informazioni utili, che sia abbastanza approfondita da indicare a Lisa gli aspetti più importanti, ma allo stesso tempo intuitiva e semplice. Cockpit di Afimilk aiuta gli allevatori come Matteo e Lisa ad avere sotto controllo la propria azienda, evidenziando i KPI fondamentali di salute, fertilità e produzione, in modo da mostrare dove si può migliorare oppure dove è necessario porre attenzione. Può fare da supporto per Lisa per discutere con il nutrizionista, aiuta Matteo ad indicare al veterinario gli animali da tenere sotto controllo e permette di dare indicazioni agli operatori in sala di mungitura. Cockpit ti consente di prendere decisioni in base ad un'attenta analisi delle prestazioni dell'azienda, così puoi analizzare le performance precedenti, avere un quadro chiaro del presente e pianificare il futuro della tua azienda. Si basa su dati oggettivi rilevati dal tuo software gestionale Afifarm e dai sensori di Afimilk. Usando la piattaforma Cockpit puoi impostare gli obiettivi per la tua azienda, che possono essere personalizzabili oppure impostati in base agli standard del settore. È intuitivo e simile a un gioco. Può essere utilizzato come strumento per massimizzare le performance della tua azienda da latte. Cockpit è un servizio cloud e disponibile ovunque tu sia. Se gestisci un allevamento da latte, Cockpit può fungere la cabina di controllo, dandoti una visione chiara e completa della modalità di lavoro. Sei pronto ad avere sotto mano la tua azienda? Prova Cockpit oggi! Ottieni maggiori informazioni. Visita www.tdm.it